Questa mattina si è riunita la Commissione Vigilanza per affrontare diverse questioni sia in ambito di tutela del lavoro che in tema sanitario e di trasporti. A conclusione dei lavori abbiamo ascoltato il Presidente della Commissione Pietro Smargiassi con il quale punto per punto abbiamo commentato l'esito della seduta a partire dalla vicenda del Ciapi che ha visto l'intervento dell'assessore al lavoro della Regione Abruzzo, Piero Fioretti. Questa nuova aggiunta, questo nuovo corso prevede di chiudere il Ciapi, è inutile nascondersi. L'assessore non ha fatto nulla per negare questa posizione. Ci sono secondo me dei profili particolari all'interno della delibera di giunta approvata che lasciano intendere questa volontà ma non sono stati ascoltati i soci, non sono state esperite tutte le possibilità di recupero dell'ente, cosa che è prevista invece nello Statuto. Abbiamo sottolineato questi passaggi, secondo noi quantomeno questa delibera dovrà essere sospesa per esperire tutta una serie di passaggi che andavano fatti prima di una delibera di giunta che dice il Ciapi chiude. Il canone richiesto alle imprese dall'azienda regionale attività produttive è stato oggetto di un confronto tra i vertici Arap e i rappresentanti degli imprenditori che richiedono maggiore trasparenza. Non è ben chiaro per motivi di trasparenza con questo canone cosa viene pagato e a chi. Viene pagato certamente all'Arap ma non si capisce bene per quale servizio. C'è un problema di sovrapposizione con la tassi, una tassa che viene pagata ai comuni per alcuni servizi tipo la pubblica illuminazione e le strade. C'è un problema perché la pubblica illuminazione e le strade sono servizi che vengono erogati dall'Arap che ha diritto di scuotere quel canone però l'imprenditore paga anche al comune quindi c'è una doppia tassazione per lo stesso servizio. Si sta chiedendo maggiore trasparenza e un impegno da parte di Arap perché parli con i comuni affinché rinuncino almeno a quella quota parte di un servizio che il comune non eroga. In tema di sanità la commissione ha interrogato i funzionari dell'Asle Terramana e dell'assessorato regionale sul mancato pagamento dei servizi resi dalla cooperativa Croce Gialla di Lanciano. Sono passati due anni, una risoluzione approvata all'unanimità nella precedente legislatura ma quel credito è ancora lì e il servizio viene ancora erogato, non si sa bene se verrà mai pagato. Questo è quello che abbiamo chiesto, non c'era l'assessore Veri, c'era un delegato. Abbiamo ascoltato l'Asle d'accordo nel pagare, l'assessorato non ci è sembrato così convinto. Faremo ulteriori approfondimenti, chiederemo tutta la documentazione per vedere anche chi ha bloccato quel parere favorevole da parte degli uffici e dei responsabili dell'Asle numero 2. Infine i commissari hanno ascoltato il sottosegretario Danuntis sul rinnovo degli organi della società unica abruzzese di trasporto. C'è una stranezza legata a dei tempi, dal momento in cui decade l'organo di governo al nuovo organo di governo, passa poco più di 24 ore all'interno di quell'assemblea in cui questo viene fatto. Non c'è il governo, non c'è il presidente di tua, eppure vengono prese decisioni a dir poco vitali di questo ente che vede trasferirsi oltre 80 milioni di euro dalla regione Abruzzo. La tua è regione Abruzzo, pensare che si possano fare delle nomine lì nell'arco di 24 ore fatte esclusivamente dal governatore, senza i soci, senza nessuno, ci ha lasciato più di qualche perplessità. chiederemo oggi appena possibile comunque all'avvocatura regionale di chiarire almeno se quell'atto è legittimo, perché altrimenti tutti gli atti successivi a quelle nomine saranno tutti atti legittimi. Vedremo se l'avvocatura non chiederà la correzione del tiro o se accetterà quella nomina così come è stata fatta.